Sulla nuova sede della Polizia Municipale fare subito marcia indietro. Questo chiedono le opposizioni in Consiglio Comunale ad Arezzo, composte da Partito Democratico, Arezzo in Comune e Movimento 5 Stelle. Lo chiediamo senza mezzi termini e con un atto formale che riporti la discussione nella sede consona. Il Consiglio Comunale recita una nota congiunta. Stop al procedimento relativo all'acquisto e allocazione sul mercato privato di un immobile da destinare a nuova sede della Polizia Municipale. Nei giorni scorsi era emerso che erano due le offerte di immobile dopo l'invito da parte del Comune di Arezzo, una all'ex asilo di via Fabio Filzi di proprietà della Diocesi e l'attuale sede dell'Agenzia delle Entrate a Campo di Marte. Le opposizioni sostengono che esiste un'alternativa a quelle che sono le eventuali ipotesi sul tavolo della Giunta, l'area comunale di via Tagliamento. Quale opposizione responsabile? Non ci limitiamo ad annunci via stampa, ma agiamo sul terreno istituzionale quello che ci compete per mandato popolare. Dunque abbiamo protocollato un atto di indirizzo con il quale chiediamo, Sindaco e Giunta, di sospendere l'iter che gli stessi hanno avviato e sul quale il Consiglio Comunale è stato bypassato. Le motivazioni sono note. Dove sta, chiede l'opposizione, l'indispensabilità e l'indilazionabilità di un'operazione si fatta, criteri che oramai la giustizia amministrativa e contabile ritiene necessari? Perché non prestare ascolto a coloro che quella sede dovranno effettivamente abitarla per molte ore al giorno, per 365 giorni all'anno, ovvero i vigili che non hanno mancato di manifestare le loro perplessità? Perché via Tagliamento, gli uffici della manutenzione e più in generale l'area e gli immobili che vi insistono sono una soluzione scartata in modo aprioristico quando invece costituirebbe un cospicuo risparmio dell'investimento programmato? Le opposizioni concludono che non è inutile rimarcare come la pubblicazione di un avviso di gara finalizzato all'individuazione di un immobile privato non vincola il comune alla conclusione del procedimento e quindi all'acquisto qualora nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta conveniente o emergano soluzioni nell'ambito delle proprietà comunali.